Ciao carissimi bambini della Prima Comunione, oramai il giorno della Prima Comunione si avvicina sempre, però avete visto che in questo periodo non possiamo incontrarci per la Catechesi. Vi ricordate l'ultima volta che ci siamo visti qui in Chiesa, che vi avevo spiegato di come la Messa è fatta da due tavole, la tavola della Parola di Dio e la tavola della Comunione. La volta scorsa avevamo parlato della tavola della Parola di Dio, che è questo ambone dove c'è il libro della Parola di Dio, che noi dobbiamo ascoltare con attenzione perché è una parola stupenda, che ci dà speranza e ci dà gioia. Adesso vediamo la seconda tavola, la tavola dell'Eucarestia e ci spostiamo all'altare. Ecco l'altare, che cos'è l'altare bambini? È un tavolo, è un tavolo, è un tavolo che viene preparato per mangiare, come a casa vostra, vedete è fatto da una tovaglia, ci sono delle candele, anche voi quando festeggiate qualche cosa di particolare, come un compleanno così, c'è una candela, ci sono delle candele che ricordano i vostri compleanni o i momenti di festa. Così anche qui, perché su questo altare avviene una grande festa e su questa tavola, come anche nelle tavole di casa vostra, soprattutto la domenica, ci si raduna attorno. E chi è che è al centro di questa tavola? È il nostro amico Gesù, però noi non lo vediamo fisicamente, però lui è presente. E come è presente? Ecco che cosa succede, vedete qui c'è una ciotola con dentro dei pezzi di pane che noi chiamiamo particole. Questo è il mio corpo, dice Gesù nell'ultima cena, per dire che lui è presente, anche se noi non lo vediamo, in questo pane, che è pane fatto solo da farina, senza sale, senza lievito, è solo pane. E poi c'è un calice, un bicchiero un po' solenne, dove viene messo il vino, vedete, questo è il mio sangue, dice Gesù, quando dà la coppa di vino ai suoi apostoli, sempre nell'ultima cena. Insieme con un po' di vino si mette anche un po' di acqua, per dire l'unità che ci deve essere tra noi uomini e Gesù, tra noi che siamo fratelli di Gesù e lui, un'unità grande. Calice e patena e ciotola con dentro il pane. Vedete, bambini, questo qui è semplice pane, questo è semplice vino. Quando diventano il pane, diventa il corpo di Gesù e il vino diventa il sangue di Gesù. Quando il sacerdote, durante la consacrazione, stende le mani e dice allo Spirito Santo di cambiare il pane e il vino in corpo e sangue di Gesù. Non è che diventa corpo e sangue di Gesù, rimane sempre ai nostri occhi pane e vino. Però la nostra fede, Gesù ci dice, questa è la mia presenza, io sono qui in mezzo a voi con il mio corpo e il mio sangue e questo è un motivo di grande festa per tutti noi, perché sappiamo che Gesù non ci abbandona mai. Una volta che il pane e il vino sono diventati il corpo e il sangue di Gesù, c'è un altro momento importantissimo, bambini. Gesù non vuole rimanere da solo sull'altare, vuole stare con noi, vuole fare comunione con noi. Ecco il momento della comunione. Il sacerdote scende e tutti voi, tutte le famiglie, tutte le persone vengono per ricevere il corpo di Gesù. Allora il sacerdote che cosa fa? Mostra il pezzo di pane, la particola consacrata e dice il corpo di Cristo e tutti voi rispondete amen, che vuol dire sì, è vero, è così, ci credo. E poi la mettiamo in bocca. Gesù fa comunione con noi, è un tutt'uno con noi. Ecco perché allora si va poi nel banco, bambini, e si deve cantare e anche un momento di silenzio per dire grazie a Gesù perché non si stanca mai di starci vicino. Bambini, non tutte le particole vengono consumate, ne rimane sempre qualcuna. Allora cosa succede? C'è un posto che viene chiamato tabernacolo in cui tutte le ostie consacrate durante la messa, che rimangono, vengono messe dentro qui. Vedete questa tendina che adesso è viola perché in quaresima ma diventa bianca quando siamo nel tempo di Pasqua, nasconde una porticina. In questa porticina vedete c'è un agnello perché Gesù è l'agnello di Dio, è colui che si sacrifica per tutti noi come avveniva nei secoli precedenti. Se noi apriamo questa porticina dorata, dentro troviamo dei contenitori. Lì dentro ci sono le ostie consacrate rimaste, per cui quando noi entriamo in chiesa Gesù è sempre presente perché è presente nell'Eucaristia che noi mettiamo qui e che quando serve distribuiamo anche agli ammalati. Allora bambini, tutte le volte che si entra in chiesa sappiate che qui c'è sempre presente Gesù e va salutato. E sapete qual è il segno che ci dice che in una chiesa c'è presente Gesù nel tabernacolo? In questo lume, questa fiammella ci ricorda che qui nel tabernacolo c'è sempre Gesù che vi aspetta. E allora tutte le volte che si passa davanti ad una chiesa entrate per dire un saluto a Gesù, per dirgli grazie per le tante cose belle che ci dona. E guardate che il Signore ci ascolta sempre e vi dona tanta gioia nel cuore a voi e alle vostre famiglie.